E' importante la memoria per non dimenticare perché costituisco un monito per i giovani che vivono in un paese fortunato dove viene garantita la libertà e la tutela della dignità umana. Non dobbiamo dimenticare il sacrificio estremo che incontrò il questore reggente di Fiume nel momento stesso in cui falsificando atti, distruggendo atti d'archivio cercò di salvare financo 5.000 ebrei dai campi di concentramento. Lui poi fu arrestato perché accusato di cospirazione e intelligenza col nemico e fu deportato lui stesso al campo di Dachau dove perse la sua giovane vita all'età di 36 anni. E' stato riconosciuto servo di Dio nel corso del processo di beatificazione portato avanti dalla Chiesa Cattolica e dall'Ente Nazionale per la Memoria della Shoah è stato considerato un giusto fra le nazioni. Il suo eroico gesto viene sempre ricordato, non deve essere mai dimenticato e deve far riflettere i giovani di oggi sul significato dell'impegno morale per consolidare il rifiuto dell'intolleranza e dell'odio razziale.